Buon inizio di giornata a tutti voi, bentrovati con la nostra rassegna stampa anche in questa domenica 27 giugno che è la giornata di preludio al momento in cui verranno tolte le mascherine all'aperto ma come vedremo dai giornali ci sono numerosi appelli alla cautela perché la variante delta è in rapida ascesa in tutta Italia e c'è un appello dei virologi a partire per le vacanze solo dopo la doppia dose per quanto riguarda il Molise, ieri c'è stata un'impennata di contagi rispetto ai numeri blandi delle ultime settimane, sono 18 i nuovi casi, allora andiamo subito a commentare la schermata che riporta i dati relativi all'ultimo bollettino emesso dall'azienda sanitaria regionale del Molise, i nuovi casi come detto sono 18 sugli 893 tamponi processati, fortunatamente nessun nuovo ricovero né trasferimenti in terapia intensiva e nemmeno decessi, quindi vediamo che gli attualmente positivi ora sono 99, 206.921 i tamponi processati sin dall'inizio della pandemia, 8 le persone ricoverate. Cosa è successo nelle scorse ore? È scoppiato un focolaio in una RSA Montenero di Bisaccia, la sindaca Contucci ha sostanzialmente blindato la struttura ma non solo, ha rimandato anche degli eventi, delle fiere e quindi parleremo di questo tra pochissimo, parleremo anche della nazionale italiana perché tutti i giornali nazionali riportano la foto della grande esultanza dopo il gol di Chiesa e noi nel corso del Tg delle 14 vi mostreremo le immagini della trepidante attesa di questa durissima partita in alcune piazze del Molise, lì dove si sono radunate le persone per vedere insieme gli azzurri. Allora partiamo da primo piano Molise, questa è l'apertura, quello che si diceva, il focolaio che è scoppiato nella RSA di Montenero di Bisaccia, 15 gli ospiti positivi, tutti vaccinati e il contagio sarebbe partito da un giovane operatore sanitario che non era ancora immunizzato, la sindaca ha vietato l'accesso alla struttura e ha chiuso anche la scuola dell'infanzia. Questa mattina al Cardarelli, al Veneziale, al Santimoteo, prime dosi agli under 15 in settimana, sapete che è partita la prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 15 anni che stamattina si recheranno appunto nei centri vaccinali dei tre ospedali per la dose accompagnati naturalmente dai genitori. Variante delta, slitta l'esito del sequenziamento, si attendeva per la serata di ieri ma ci vuole ancora qualche ora per accertare che quei casi sospetti siano effettivamente riconducibili alla variante delta. Vediamo che di spalla c'è il punto firmato oggi da Patrizia Manzo, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle che parla di terzo settore, è l'ora del cambio di passo, questo è l'approfondimento con le parole di Patrizia Manzo. Il bollettino lo abbiamo visto, 18 nuovi casi, 9 guariti, stabili ricoveri, il tasso di contagiosità del 2% e poi le varianti, l'appello dei virologi, come si diceva in vacanza solo dopo il richiamo, la location alternativa per il matrimonio, primo sì in Villa de Capo a Campobasso, ve l'abbiamo documentato anche ieri nel Tg, questo nuovo regolamento al Comune di Campobasso consente i matrimoni e le unioni civili al di fuori del Palazzo Comunale. Ieri c'è stato il primo evento in Villa de Capo, uno scenario davvero molto bello. Questo richiamo è per la politica, un'altra notizia importante riportata da Primo Piano, il centrodestra accelera, parliamo di elezioni, convocato un summit riservato ai big dei partiti e sembra proprio che le elezioni comunali di Sernia di ottobre saranno un'occasione per stilare degli accordi anche in vista delle elezioni politiche e delle prossime regionali. Dentro la notizia chiudiamo per la con questi richiami di spalla, a Benafro c'è l'ok del consiglio, è nata la consulta comunale con le associazioni per l'ambiente. Caldo e AFA, ondate di calore, ieri e oggi bollino rosso a Campobasso, previsioni infernali, a Boiano ordinanza antidegrado, c'è la reazione dei vandali che hanno rigato auto e danneggiato specchietti, hanno proprio distrutto degli specchietti retrovisori. Vediamo i richiami di sport sotto alla testata, per il Campobasso la campagna di abbonamenti partirà a metà luglio. Va a suggerire di una notizia importante, lascia il braccio destro del presidente Marino Cipalermo che ha avuto l'incarico di DS alla Correggese, infine la pallacanestro femminile Under 20, la Magnolia perde con l'SG San Martino nella Coppa Italia. E allora ci spostiamo sulle cronache nazionali con i quotidiani partendo dal romano il messaggero, come vi dicevo, c'è la foto degli azzurri che si abbracciano dopo la liberazione, dopo il gol di Chiesa che è subentrato a Berardi in corso d'opera e ha cambiato letteralmente la partita con l'Austria. Il trascinatore, Chiesa e l'Italia va ai quarti, ci aspetta adesso una tra Belgio e Portogallo. Due a uno ieri con l'Austria a Wembley. E vediamo in apertura, qui richiamo in alto, ci sono le parole di Fabio Ciciliano che è il segretario del CTS, vaccino due dosi per viaggiare, vacanze all'estero solo con l'immunizzazione completa, il piano per fermare la variante Delta, chiusure con 250 infetti ogni 100.000 abitanti. Qual è l'altra notizia di questi giorni, il tormentone del Movimento 5 Stelle, Conte era pronto a lasciare, domani ci sarà una conferenza stampa, sembrava certo il suo addio al Movimento, invece adesso Marco Conti del messaggero dice che l'intesa è vicina, potrebbe dire di sì a Grillo garante del nuovo Movimento. Poi la tensione al G20 a Matera, Russia e Cina non si presentano. L'altra notizia di cronaca, una tragedia di Milano su lago di Garda, schianto sul Garda, sapete dell'imbarcazione condotta da due tedeschi che si è schiantata con un gommone, a bordo c'era Greta e un altro giovanissimo che purtroppo non ce l'hanno fatta. Greta poteva essere salvata dai soccorsi perché l'autopsia ha accertato che la ragazza purtroppo è deceduta per annegamento. Chiudiamo con la ginnastica artistica, c'è Vanessa Ferrari in copertina, infinita Vanessa, batte la moria a Doha e a 30 anni conquista la sua quarta Olimpiade, grandissima campionessa Vanessa Ferrari. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera, si parla anche qui di variante Delta, sulle vacanze i virologi, partire dopo la seconda dose, risalgono i contagi nel mondo, sono oltre 2 milioni e 700 mila gli over 60 ancora senza un'iniezione. Speranza, investiamo sul tracciamento. Anche qui di spalla vedete Conte Grillo rimane il gelo, quindi il messaggero dava una lettura un po' più distensiva, il Corriere afferma che resta ancora il gelo e c'è Di Maio che fa il pontiere e che crede nell'intesa, l'articolo è di Tommaso Labate. E poi ieri è stata anche la giornata delle manifestazioni in piazza dei sindacati contro lo sblocco prossimo dei licenziamenti, licenziamenti il governo studia nuovi interventi e poi c'è Chiesa con le braccia aperte che esulta dopo il gol, il gruppo vincente di Mancini, ora ci tocca Ronaldo Lucaco, cuore grinta e l'Italia fa festa. Andiamo avanti dal Corriere, ci spostiamo su Repubblica. Ecco l'apertura, c'è un'intervista a Silvio Brusaferro che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, se risalgono i contagi tornano le mascherine, questo monito perché come detto da domani stoppa le mascherine all'aperto dall'Australia dove Sidney è tornata in lockdown, all'Europa la mutazione del Covid avanza e fa paura. Pressing di Draghi per anticipare la consegna dei vaccini Pfizer. L'esultanza di Federico Chiesa insieme ai compagni azzurri, l'Italia soffre e poi riprende a sognare. Gli azzurri hanno battuto l'Austria 2 a 1 e sono volati ai quarti, gli approfondimenti di Maurizio Crosetto, la svolta nei cambi, ora Lukaku o Ronaldo, le due stelle rispettivamente di Belgio e Portogallo. E poi la coscienza a targhe alterne, questo è il testo, il pezzo di Gabriele Romagnoli. Vediamo poi che si parla di Grillo Conte verso la tregua, Di Maio sono certo della pace e poi Roberto Bolle, l'intervista alla grande etuale della danza classica, il mio corpo un dono prigioniero della perfezione. L'inedito del Papa, l'indifferenza è complice della guerra. E ci sono poi gli editoriali di spalla di Eugenio Scalfari, Maurizio Molinari. Ci spostiamo ora sul Fatto, il Fatto Quotidiano, vediamo come titola, scendendo giù, vediamo il titolo centrale del quotidiano diretto da Marco Travaglio europei, il girone Villa, Vintola, Variante, tutte le partite cluster di contagi Delta, questa è l'articolo inchiesta del Fatto. Calcio e scommesse, Focolai per i match negli stadi di Danimarca e Russia, dove ieri c'era il record di decessi, Crisanti, l'immunologo Crisanti, finale a Wembley, roba da matti. Ieri c'è stata la partita proprio a Wembley degli azzurri e lì prevista anche la finale dei campionati europei. Conte rimane, andiamo un po' più su sotto alla testata, poi ci spostiamo sul sole, Conte rimane fermo sul no a Grillo, quindi vedete poi ci sono diverse interpretazioni sui giornali, il fatto dice che Conte non vuole Grillo come garante, De Masi, il sociologo da sempre vicino ai 5 stelle, dice parlatevi. Il sole 24 ore, le notizie economiche del quotidiano della Confindustria, fisco, scadenze da allarme rosso, eccolo qua, fino al 30 luglio in agenda, 263 adempimenti, l'89% riguardano i versamenti, proroga per le partite IVA con pagelle fiscali, cartelle da pagare a fine settembre. E poi licenziamenti, confronto sulla proroga del blocco, c'è un decreto legge in arrivo, vediamo l'intervista all'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, eccolo lo vediamo in questa grande foto centrale, l'Europa con la ripartenza può tornare protagonista e dal recovery 10 miliardi all'auto per rilanciare volumi e filiera. Si parla anche qui della variante Delta che in Australia torna in lockdown e invece a fianco alla testata la foto di Milena Bertolini, CT, eccola qua, la vediamo meglio, CT della Nazionale Italiana Femminile, investire nello sport vuol dire formare uomini e donne per la società civile di domani. Chiudiamo con la gazzetta sportiva e l'apertura non poteva che essere dedicata con questa grande foto alla partita al trionfo a Wembley dell'Italia, dei leoni d'Italia, sofferenza e gioia, 2 a 1 con l'Austria, cambi decisivi, Chiesa e Pessina aprono il bunker nei supplementari, ora aspettiamo CR7, Lukaku e poi si parla anche un po' di mercato, vabbè c'è l'intervista a Mancini, la prossima sarà più facile, si parla di mercato, in basso vedete la Juve è pronta a blindare di bala. Prima di salutarci vediamo i programmi in onda in questa domenica su Teleregione, velocemente, allora alle 11 c'è la musica di Gigione a Mezzogiorno Punto Verde, alle 13 Camminando Molise, alle 14 ci rivediamo con la prima edizione del Tg, alle 16 conto alla rovescia, alle 18.30 Camminando Molise, alle 19.30 una nuova edizione del Tg, alle 21 Punto Verde e si chiude alle 23 con l'ultima edizione delle news. Bene, grazie di essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona domenica e ci vediamo più tardi con il Tg, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.